Musica E ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Dopo tantissimo tempo Con un nuovissimo Perché c'è una squadra Della settimana ragazzi Paurosa come potete vedere qui C'è Neymar, c'è Suarez Milinkovic, Pjanic, Silva E tanti tanti altri C'è anche Marco Salonzo ragazzi E oggi sono qui ragazzi per aprire Quasi tutti i 29 pacchetti Che ho sbloccato Con le SBC Dedicate praticamente Dove abbiamo un IF garantito Sto per completare Salah e Pirlo Quindi mi raccomando Tanti mi piace per questo Gli aggiornamenti della Premier League Gli aggiornamenti della Serie A E tanti altri pacchetti ragazzi Anche della Liga Ed è uno della Ligan se non erro Oggi sono qui per aprire Un po' di pacchetti Perché alcuni me li voglio tenere Per la nuova squadra della settimana Che uscirà a brevissimo Quasi tra un'oretta Perché lì ci saranno Molti altri giocatori della Premier Molto molto interessanti Ragazzi vi dico soltanto Che comprerò un bel po' di FIFA Points A brevissimo Non so se 12.000 O quanti altri E dovete farmi sapere Qui sotto nei commenti Se volete una bella live Dove apriamo un bel po' di pacchetti Oppure se volete un video Dove appunto Spacchettiamo normalmente Ho quasi prosciugato Tutti i miei 300.000 crediti Per fare Salah E mi manca l'ultima sfida Quella FIFA 18 E come vedete Ho 2.000 crediti Quindi spero di trovare Delle belle carte Da poter rivendere Per potermi fare Un bel po' di crediti Per poi andare a sbloccare L'ultima sfida di Salah Che è quella più costosa Forse se non erro Quindi ragazzi Andiamoci ad aprire Questi pacchetti Belli belli Gagliardi Partiamo col primo pacchetto Oro Premium Vediamo un po' cosa succede Speriamo bene ragazzi Speriamo bene Ha lasciato un bel mi piace Per questo pack of Niente Cominciamo benissimo Io mi sono messo pure Il vestito Da abete E troviamo Rondon Così un vestito da albero Così in clima natalizio Scusate se vedete Un po' la luce Che non c'è Praticamente Perché si è scaricato il faretto Quindi chiedo scudo Per questo Noi mandiamo tutto In lista trasferimenti Ovviamente Andiamo subito A aprire il secondo pacchetto Dai ragazzi Per favore Sette rari Con tutti i muchi Sette rari Dai Dai Porca miseria Dammi un abbono Ma perché Ben Arfa Ma che schifo Cos'è Uno Uno buono Me lo vuoi dare Uno buono Uno buono Da poter rivendere Uno buono Da poter rivendere Oro premi un maxi Ragazzi Maxi Dov'è il maxi Dov'è il maxi Buono Eccolo Fermi tutti Questo è una rapina È una rapina No So No Burki Mi serviva Burki Per l'ultima sfida Di Salah Quindi Buono Ho risparmiato Quasi 6.000 crediti Perché costa Quasi 6.000 crediti Burki Quindi va benissimo Jamerson No me lo tengo Altro pacchetto Da sette rari Dai Per favore Per favore Ti supplic Ti supplic Niente Gustavo la banana Pacchetto oro rari 12 Tutti rari Sono questi Tutti rari Hashtag rari Ragazzi Rari Ma Ma Dai Altro pacchettino Altro pacchettino Buono Fermi tutti È una rapina Uh Uh Pianic Non ci credo Non è possibile Mi perseguita Mi perseguita Per chi non lo sapesse Io sono romanista Sono romanista Lo vedete Sono romanista Che è successo Lo scudetto Ah no È al contrario Sono romanista E trovo Pianic Ma non è possibile Ma Ma Vabbè Allora Mettiamola Da un lato positivo Cioè che È buonissimo È buonissimo Questo costerà Un botto Questo costerà Un botto Però Non è possibile Ragazzi Per seguita Sono romanista E Pianic Mi perseguita Ma quanto costa Pianic ragazzi Pazzesco 80 Ma Potevi anche costare Un po' di più 75 80 mila Costa Costa quasi 80 mila Va bene Io sono contento Mamma mia però È fortice Le statistiche impressionanti Io volevo iniziare A farmi una Premier League Però Se hai sto qui Come fai a iniziare una Premier League Mi spieghi Allora Andiamo avanti Non ci credo Pianic ragazzi Mi perseguita Un altro Fermi Fermi Che sia maledetto tu Mago Godin No Saragime Eh beh Eh beh Pacchetto giocatori misti Prime 12 giocatori Di cui 6 rari 4 oro 4 argento E 4 bronzo Troverò 4 bronzo Rari Sicuro 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 Fermi Ancora Incredibile Incredibile Inglese Difensore centrale Chi è Kyle Buono Pacchetto giocatori oro Piccolo Piccolo Perché questo è piccolo Poi andiamo ad aprirci anche come ultimo Quello Quello della squadra settimana Garantito Della settimana Ovviamente 14 Apriamoci questi due oro premium maxi Che sono quelli della deluxe Che mi sono arrivati giù Lunedì Vediamo un po' Oh ma che sta a dire Dai uno buono Uno buono Belgio Est Va bene Va bene Va bene Però Va bene Ogni tanto mi confondo Perché non so se Hazard E AS O ES Però poi ho visto Belgio Speravo in Nainggolan Ma va benissimo anche Carrasco Ragazzi Nastaci Stonelli Un pack opening Fantastico Andiamo ad aprirci l'ultimo Sperando che sia Vavo Incredibile Ma vero Proprio lui Incredibile Sbanchiamo FIFA Non neanche Con gli schermi Ottagonali Va bene Bene ragazzi Io direi di aprirci Soltanto Questo qui Della squadra della settimana 14 Perché gli altri Me li voglio tenere Sinceramente Me li voglio tenere Per Per la prossima Scuola della settimana Perché alla fine Qui della Premier C'è solo Silva Marco Salons Comunque sono buoni Ragazzi Però in quella nuova C'è Aghero C'è Aghero Tanta roba Giocatore Squadra della settimana 14 Garantino 81 Più Fermi tutti Dammene uno buono Se mi dai Neymar Giuro che spacco qualcosa Dai Non sarà mai Neymar Chi è? Olanda Esterno sinistro Ma che schifo Babel Ma Ti pare Ti pare Con tutti quelli che ci sono Buoni Mi dai Babel Ragazzi Lasciate un bel mi piace Un romanista Che trova Pjanic E' il colmo E' il colmo Lasciato mi piace Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Vi lascio un sondaggio Sia qui Sia come post Sulla mia Sul mio Praticamente Canale YouTube E votate Se volete Una live Dove finiamo tutti questi pacchetti E ne apriamo qualcuno Con i FIFA Points Oppure se volete Un video Dove spacchettiamo normalmente Lasciato mi piace Commentate E condividete Tutti i social in descrizione Il video è finito Da Giotto è tutto E ciao aglio